Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Mussomeli hanno rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, anche con l'impiego dei reparti speciali dell'arma. Nel corso dei servizi sono stati verificati 185 atomezzi, elevate 9 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione, identificate 214 persone, 5 le perquisizioni personali eseguite al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 7 grammi di hashish, segnalando alla prefettura due soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, ad Acquavivia Platani, i militari della locale stazione hanno tratto in arresto in ottemperanza all'ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica di Caltanissetta, un romeno di 37 anni, riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Mussomeli dal 2015 al 21 dicembre 2019, con sentenza definitiva del 21 ottobre, con cui è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione. Al termine delle formalità, l'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta. Infine, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria due soggetti di Milena per furto d'acqua, poiché da verifiche effettuate unitamente alla Società di Gestione dell'Acqua avrebbero manomesso il condatore idrico, allacciandosi direttamente alla rete, evitando la lettura dei consumi.